Flop non stava molto bene, gli faceva tanto male la gola e parlava tutto Povero Flop, allora mi sono preso cura di lui con un cuscino, una coperta e oppiti ma poi il miele, la carota e il limone sono caduti a terra Flop ha detto che voleva un abbraccio e quindi ci siamo seduti sul divano insieme e abbiamo guardato oppiti in tv Prendersi cura di Flop è una cosa da Bing Così ho aiutato Flop a sentirsi meglio Ciao, io e Coco ci siamo mascherati e io ero il re Bing quindi mi serviva una corona ma ce n'era una sola e anche la principessa Coco ne voleva una Così abbiamo... e abbiamo rotto la corona e i gioielli sono andati ovunque è stato davvero brutto ed eravamo entrambi tristi ma ci siamo divisi i gioielli e Flop ha costruito due corone così ognuno ha avuto la sua Mascherarsi è una cosa da Bing E io sono il super magico leone re Bing Ciao, stavo giocando e non sono andato a fare la pipì insieme a tutti gli altri e Coco mi ha trovato per ultimo quindi ho vinto io ma poi ho fatto la pipì nella mia tutina e non è stato molto carino però Amma ha pulito e sistemato tutto e Sula mi ha dato delle mutandine asciutte Bisogna fare la pipì prima di giocare o smettere di giocare per farla Nascondino e fare pipì sono cose da Bing Ciuf ciuf! Ciao! Volevo vedere... un super fuoco a pioggia fare così! Sula portava il paraorecchie per paura dei botti Io non avevo paura quindi sono uscito ma poi un enorme fuoco d'artificio ha fatto BOOM! Il rumore era troppo forte e mi sono spaventato così Flop mi ha dato delle cuffie speciali non puoi fermare i botti ma puoi renderli più silenziosi I fuochi d'artificio sono una cosa da Bing Ma solo se non fanno rumori Ho trovato un palloncino e Flop lo ha gonfiato Essi potevano fare molti giochi ma mentre facevo Boing Boing è rimasto schiacciato e allora ha fatto Quando i palloncini scoppiano non si può più fare niente non si possono più gonfiare Così il palloncino ora sta nella scatola dei ricordi Se si rompe una cosa a cui tieni mettila nella scatola dei ricordi Lì sarà al sicuro e non la dimenticherai mai La scatola dei ricordi è una cosa da Bing Ciao ciao! Ciao! Ero sull'altalena e voleva salirci anche Pando Così ho contato fino a dieci e poi gli ho lasciato il posto ma Pando non contava bene e questo mi ha fatto arrabbiare Così sono andato davanti a Pando per fermarlo ma l'altalena mi ha colpito Boom! Mi ha fatto male ma non è stata colpa di Pando Poi è toccato di nuovo a me e Pando mi ha spinto in alto fino al cielo Anche se tocca a voi non correte mai davanti a un'altalena Andare sull'altalena è una cosa da Bing Tocca a voi! Ho fatto una torre ed era alta quasi come me che sono molto alto Poi Coco l'ha buttata giù e io mi sono arrabbiato Allora ho distrutto l'arcobaleno di Coco e allora Coco si è arrabbiata Poi abbiamo fatto una torre arcobaleno insieme e l'abbiamo buttata giù insieme ed è stato divertente Mi piaceva la mia torre ma è stato più divertente fare torri arcobaleno con Coco Giocare con i cubi è una cosa da Bing Facciamolo ancora! Ciao! Abbiamo dato da mangiare agli anatroccoli ma andavano tutti da sola e Flop ha detto resta immobile come una statua e in assoluto silenzio Shhh! Così gli anatroccoli sono venuti anche da me ma poi è arrivata un'enorme oca che faceva ed era spaventosa e Flop ha fatto e la grossa oca è volata via Se restate in silenzio e immobili come statue le anatroccoli si avvicineranno Da da mangiare agli anatroccoli è una cosa da Bing Mi faceva il solletico Ciao! Flop mi ha dato una carota croccante che faceva duduruduru tutu banana ma la banana era tutta molle così abbiamo dato la banana molle e il latte a Frulli e Frulli ha mescolato tutto insieme poi però si è preso anche la mia carota e non è stato carino la mia carota non usciva più così abbiamo fatto un frullato di carota e banana ed era veramente delizioso quando fai un frullato dopo non puoi più separare le cose Fare un frullato è una cosa da Bing Io odoro i frullati Ciao! Io e Sula abbiamo trovato una rana e le abbiamo preparato una bellissima casa e il pranzo ma la rana non l'ha apprezzato ed è stato triste lei aveva già una sua casa che era tutta buia umida e con le pareti viscide poi l'abbiamo persa perché aveva saltellato piano piano fino alla sua casetta a casa mia ho un lettino e una coperta calda ma questo è perché io non sono una rana alle rane non piace ciò che piace a me trovare una rana è una cosa da Bing Ciao! Io e Flop giocavamo con le macchinine ma Charlie ha rotto il mio garage e le mie auto sono andate dappertutto e non era affatto bello allora Flop si è messo a giocare con Charlie mentre io giocavo con le mie macchinine ma non mi piaceva giocare da solo così ho riportato la patata Charlie con il mio fuoristrada e abbiamo giocato con le patate a plof giocare con le macchinine è bello ma giocare insieme è più bello giocare insieme è una cosa da Bing mi piace giocare con Charlie Ciao! Io e Flop abbiamo giocato da chiappa all'ombra e è stato divertente ma quando toccava a me fare il mostro è arrivata una nuvole si è messo a piovere e ho dovuto lasciare la mia ombra sotto l'acqua e non mi è piaciuto ma Flop ha preso una torcia e quando mi ha illuminato ho ritrovato la mia ombra la tua ombra resta con te ovunque tu sia ma se non sei davanti alla luce allora lei non potrà giocare con te le ombre sono una cosa da Bing e ora sono io il mostro ciao! abbiamo giocato alle belle statuine che stanno ferme quando la musica si blocca sono stato davvero bravo a restare fermo come una statua ma poi mi sono mosso e non ho vinto e ci sono rimasto molto male e allora mi era passata la voglia di giocare ma tutti gli altri continuavano a giocare e anche Charlie perché era più divertente che stare da solo allora sono tornato a giocare da 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 non puoi sempre vincere anche se hai scelto tu il gioco le belle statuine è una cosa da Bing giochiamo di nuovo! ciao! ho rovesciato i cereali sul pavimento ops! così ho aiutato Flop a pulire e Vuvo se li ha mangiati tutti niam 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 ma Vuvo ha inghiottito la mia macchinina e io non riuscivo a riprenderla poi Flop l'ha tirata fuori dal pancino di Vuvo io non potevo farlo perché l'aspirapolvere è un oggetto elettrico non è grave combinare un pasticcio ma devi stare molto attento quando pulisci combinare un pasticcio è una cosa da Bing l'abbiamo pulita! ciao! io e Pando abbiamo trovato un nuovo gioco al parco con una rete per arrampicata un tunnel dondolante e un ponte traballante ed era divertente ma c'era anche uno scivolo molto alto e io avevo molta paura Pando ci ha fatto vedere come si fa e Hopi ti è sceso prima di me se avete paura di fare qualcosa guardatela mentre la fa qualcun altro e se all'altro piace potrebbe piacere anche a voi lo scivolo è una cosa da Bing facciamolo di nuovo! ciao! Flop ha fatto una nuova riga sul muro per vedere se fossi cresciuto e lo ero! poi Coco ha fatto un'altra riga e ha detto che ero cresciuto in giù ho avuto tanta paura di crescere sempre più fino a diventare piccolo come Charlie ma poi è andata bene perché Flop mi ha misurato di nuovo e siccome Coco aveva dimenticato le mie orecchie la sua riga era sbagliata Coco è pasticciona non si può crescere in giù si può solo crescere in su crescere? è una cosa da Bing e io sono alto! ciao! io volevo andare a giocare a casa di Sula ma il naso ha cominciato a fare ciù e usciva roba tutta verde appiccicosa Flop ha detto che non potevo uscire perché avrei passato i miei germi a Sula e io ero triste così Flop mi ha messo al caldino come un gattino e poi Sula e Amma mi hanno portato la ciambella alle carote ed era squisi, liziosa potrò giocare con Sula quando starò meglio star notire è una cosa da Bing itch! itch! uuh, uuh, uuh uuh, uuh, uuh